Domenica 25 aprile, presso l'Euroorto Frutticola del Trigno di San Salvo, si è approvato il bilancio del 2009 e più si sono rinnovate le cariche. Con noi abbiamo Torricella Nicola, il vecchio Presidente, con lui facciamo come sono andati prima l'annata dell'anno scorso e soprattutto i risultati, se sono stati riconvermati gli uscenti e se è rimasto soddisfatto delle elezioni da parte dei soci. L'annata dell'anno scorso non è stata un'annata molto soddisfacente per quanto riguarda i ricchi, ci troviamo in mezzo a una grande crisi economica e quindi anche il settore agricolo in questo caso non si è distinto da questa crisi. Noi il futuro speriamo che tutto vada per il meglio, la cooperativa si sta muovendo verso la direzione giusta, sta portando avanti dei progetti molto innovativi al riguardo per diversificare il nostro prodotto da quello degli altri. Uno dei tanti progetti che stiamo portando avanti è quello dell'assistenza tecnica che riguarda la confusione sessuale per tutta la vallata. Lo stiamo portando avanti con un consulente tecnico che abbiamo preso ultimamente in cooperativa, il signor Matteo Occhio Negrelli. Oltre alla confusione sessuale vogliamo un po' produrre una frutta più corrispondente alle qualità del mercato e quindi stiamo portando avanti anche un discorso della micorizzazione che non è altro che arricchire il terreno di sostanze nutritive antagonista a quelle nocive che porterà la frutta ad avere degli antiossidanti maggiori. Quindi andremo verso una direzione di un prodotto che risponde ancora di più verso la salute del consumatore. Adesso i risultati delle elezioni, questo Consiglio uscendo ha avuto la fiducia dei soci, c'è stata la partecipazione considerando la crisi forse prevedevi che pochi soci venivano a votare. Sì, questo con grande soddisfazione nostra era una di quelle cose che non ci aspettevamo. Pensevamo che i soci delusi dall'ultima campagna ma anche delusi dagli ultimi risultati ottenuti pensavamo che non c'era questa grande affluenza al voto. Invece hanno risposto alla grande e questo è il motivo anche nostro di grande soddisfazione perché sono stati quasi 400 votanti e quindi hanno risposto bene. Poi la cosa positiva secondo me è che hanno riconfermato un po' tutti il vecchio Consiglio di amministrazione solo due sono uscenti e sono introdotti due nuovi i quali Colameo e Chinni. Quindi la fiducia è stata quasi totale con un buon risultato di tutti anche se hanno premiato anche la mia persona quindi c'è stato tra il primo e il secondo degli eletti quasi 80 voti di scarto e quindi questo è anche motivo di grande orgoglio, miglio vuol dire che sono stato apprezzato. Le prospettive future, la futura campagna che cosa si prevede? Logicamente adesso ci saranno rinnovi delle cariche, penso che non ci saranno problemi anche perché quasi tutto il gruppo uscente, quindi il gruppo che ti ha appoggiato in questi ultimi anni ma soprattutto potete portare il programma che in questi ultimi anni è sempre più sulla qualità. Poi noi torneremo pure successivamente, andremo sui campi perché il discorso del disorientamento sessuale o la confusione sessuale come si chiama è molto importante perché oltre a battere i trattamenti chimici anche i trattamenti biologici, quindi significa che andiamo a tutelare la salute del produttore, del consumatore e ci avviamo sempre di più verso la qualità. Logicamente per quest'anno che cosa si prevede? Prima di rispondere a questa domanda vogliamo un po' elencare a prima chi sono stati i nomi dei nuovi di tutto il Consiglio di Amministrazione. Parte da Torricela Nicolino, poi c'è Marinelli, Tumini, Travaglini, Cilli, Tascone, Di Filippo Antonio, Savini, Marchetta, Colomeo, Chinni. Per quanto riguarda, e questo è per quanto riguarda le votazioni, quindi era mia premura elencare i nomi dei nuovi eletti. Per quanto riguarda le prospettive future, noi veniamo da un giro di clienti, siamo stati a Berlino e adesso abbiamo fatto un giro dei nostri clienti sia nazionali che esteri, le prospettive è verso una ripresa. Però questo ce lo confermerà soltanto poi la campagna, la commercializzazione che andremo a fare. Quest'anno avremo sicuramente delle difficoltà per quanto riguarda la produzione perché stiamo vedendo che abbiamo avuto già dei danni sull'allegaggione. Speriamo che questo prodotto, quando mancherà, si traduca poi in maggiori ricavi e questo potrà compensare le perdite. Per quanto riguarda gli obiettivi che noi ci siamo posti, è quello che dicevo prima, diciamo che con la confusione sessuale, con questa certificazione che abbiamo già portato all'attenzione della Regione Abruzzo ma che andremo poi a certificarlo con l'Università di Agraria, speriamo che tutto questo poi si traduca in una differenziazione del nostro prodotto a livello commerciale. Certamente noi siamo stati sensibili anche a riguardo dell'ambiente ma anche a riguardo alla salute degli operatori agricoli perché tutto questo vuol dire che non trattare più, vuol dire che anche salvaguardare la salute degli operatori perché sappiamo benissimo che gli agricoltori ultimamente stanno morendo molto di malattie tumorali e questo è qualcosa che dobbiamo cominciare a guardare. Allora, per quanto riguarda la confusione che è stata applicata in questo progetto si tratta di coinvolgere in futuro anche l'amministrazione comunale, la provincia e tutte le istituzioni. Noi come emittente ci ritorneremo e faremo un monitoraggio anche in campagna e seguiremo tutti i vantaggi che avrà a livello sanitario. Senz'altro poi dobbiamo fare una pubblicità, penso, come cooperativa e come istituzione sul prodotto che sarà un prodotto migliore a livello qualitativo. Quindi noi ringraziamo il Presidente Nicola Torricelli e pensiamo che a presto, appena dopo le elezioni, ci risentiamo di nuovo e speriamo che quest'anno sia un anno migliore rispetto all'anno scorso. Grazie per l'opportunità al Professor Pagano, grazie per l'opportunità a Orazio Di Stefano per questa intervista che abbiamo messo in atto. Grazie.